Il tuo passato non è altro che fumo e ombre. Chi sei Jack? Non posso dirti niente. Qualcosa che lo costringeva ora a difendere con ogni mezzo quello che aveva di più caro. Porta di sopra i ragazzi. Queste cose cambiano. Sei indiziato per l'omicidio della tua ex moglie e di suo marino. Polizia, giù leo! Quindi consegnami il distintivo. In prima visione. Steven Seagal in... Delitti inquietanti. Martedì 20.50. Rai 2. Va andata lì che ti teletrasporto. Ma cosa hai fatto? Ho fatto la spesa alla Sigma. Ma sopra se sei migliorata. Nei supermercati Sigma c'è Millennium Collection. Raccogli i punti. Sigma, una ragione in più. Dall'Istituto Geografico De Agostini, città del mondo in CD-ROM. Inizia il tuo viaggio. New York con guide, cartina e gianemicola. Sono 4.900 lire. E in più scopri il nuovo milione. Lo prendo io. No. Sì. Venere sei proprio a Venere. Grazie, Bacco. E il Narciso è proprio un Narciso. Oh no. Adesso chi lo stacca di là? Questo. Contorno mediterraneo di quattro salti in padella. Adesso arriva il bello. Eccomi. Patate, zucchine, melanzane. Che delizia. Gustose verdure alla griglia. Natto, non ha mali solo te stesso. Lontano dai pasti. Quattro salti in padella, Findus. I piatti che sono diventati un mito. Siemens C25. Piccolo, leggero e dual band. Super merenda? Sì. Ci sono due coccodrilli ed un orangutan. Due piccoli serpenti e l'aquila reale. Il gatto, il topo, l'elefante. Non manca più nessuno. Solo non si vedono. I due leocorni. Con i budini cameo il latte lo aggiungi tu. E il risultato è una super bontà. Budini cameo, la super merenda. Non ci provare. Loredana, lo zio Pino sono. Scherzo. Con dopo cena in forse da telefonare dalle 22 alle 8 costa solo 50 lire al minuto in tutta Italia. Sì, tutti i giorni. E io ho un gatto bianco e nero. Chiama l'155, l'abbonamento è gratuito. Hai visto un gatto? Ugo, io ho la madre, tu la figlia. Vuole che le racconti come faccio i miei anolini. Sono tutto orecchi. Ma ho solo il menzo nel vino rosso e uso solo parmigiano. Ma cosa mette per farli così buoni? E' tutta roba genuina. Per preparare gli anolini emigliani, Buitoni ha carpito i segreti delle esperte. Ma ne prendo ancora. Sei insanziale. I nuovi anolini, da Buitoni fresco. C'è una donna qui davanti! E chiedo due bambini! Uno, alza! Due, tre! IAR, medici in prima linea. Hai violato tutte le norme e le procedure del pronto soccorso. Io voglio solo dare la possibilità a questo bambino di fare una vita normale. L'emergenza continua. Cosa vedi? Un buco nel cuore. Nel pronto soccorso più famoso del mondo. Ho un'ottima assicurazione. Qui verrebbe curato in modo eccellente anche se non l'avesse. Non può trattarti come se fossi un oggetto. IAR, medici in prima linea. Lunedì, 20 e 50. Rai 2. Non vedi l'ora di cambiare auto? Passa alla nuova Fiat Punto 1200. C'è un finanziamento fino a 12 milioni in 24 mesi a tasso zero. Fino al 29 febbraio. È un'iniziativa delle concessionarie sui cursali Fiat. Fred! La spesa! Eccola! Tesoro e i punti della raccolta! Eccoli! Ma quanto pesano queste raccolte? Porta pazienza. In futuro sarà diverso. Sì, con la grande raccolta punti Conad, i Megasogni. Regali da sogno raffinati. Esclusivi. Te li fanno Conad, Margherita, Pianeta. E presto anche i distributori IP che aderiscono all'iniziativa. I Megasogni. Tutto il resto è preistoria. Ci vorrebbe un piccolo restauro. Eh, gli anni ci sono. Mmm, che ne dici? Inizio 900. Neorinascimento inglese. Bella. A restauro ci pensiamo noi. Restauro e antiquariato. L'unica opera per riconoscere epoche, stili, quotazioni. In più il kit del restauratore con materiali e strumenti per i tuoi semplici restauro. Restauro e antiquariato. In edicola sulle 1900 lire. Il primo fascicolo. La guida di dove al mercato antiquario. E la gomma lacca. De Agostini. Il diesel è fantastico nella nuova BMW Serie 3 Touring. Il latte mi piace tanto, ma io non lo digerisco. Con Zimil, però, posso berne quanto mi pare. Zimil. Il latte per chi non digerisce il latte. Da Parmalat. Anche per le vostre telefonate urbane, scegliete Wind. E di sera, chiamate in città e fuori porta a 0,8 lire al secondo, senza canone, senza scatti alla risposta. IVA inclusa. Abbonatevi gratuitamente al 159. Riprendetevi la libertà di comunicare. Io non ho paura delle rughe. Dalla ricerca biocosmetologica Sant'Angelica, rigenerante è antietà. Il suo esclusivo concentrato antietà agisce sulla pelle unendo l'efficacia di una crema rigenerante alla rapidità di una maschera antirughe. Ho fiducia in Sant'Angelica. La trovo in farmacia. Ho in mente solo K. Ho in mente quella che ha tutto. È in edicola Coste e Mari d'Italia. Prima uscita, la Costa Smeralda. Fascicolo più video più cartina. A sole 3.900 lire. Da Fabri e Airone. Grazie. Grazie.